Sono stati tre giorni interessanti perché abbiamo avuto per la prima volta l'opportunità di incontrare in maniera ufficiale gli altri tre team, il Defender e gli altri due Challenger. È stato molto interessante perché li abbiamo incontrati un po' in tutti i range di vento, dal vento forte a vento leggero, quindi questo ci ha permesso un po' di coprire tutti i range di vento e vedere dove dobbiamo migliorare, dove ci sentiamo più forti e soprattutto di confermare un po' quello che noi avevamo pensato in termini di design package, di tutto il pacchetto della barca, derive, vele e scafo. Quindi questo ci permetterà nei prossimi giorni di fare una serie di debrief, di riunioni tecnici per vedere dove ed eventualmente cosa modificare in preparazione per l'inizio della Prada Cup a metà gennaio. Siamo usciti alla fine ovviamente non soddisfatti in pieno perché ieri per un buco di vento abbiamo perso la possibilità di vincere l'evento, però siamo contenti perché rispetto al primo giorno quando magari abbiamo iniziato un po' in sordina, magari qualcuno ci dava un po' per spacciati, poi in realtà lavorando a testa bassa senza troppi proclami siamo arrivati a poterci giocare l'evento. Quindi questo è positivo perché vuol dire che il team è sempre stato concentrato e pronto a reagire. Sappiamo che sarà un cammino molto lungo perché la Prada Cup, anche se siamo pochi team, sarà molto lunga, ma soprattutto sarà un periodo di continuo sviluppo. Entrambi i team, i challenger, continueranno a sviluppare, a modificare la barca, quindi sarà interessante vedere un po' l'evoluzione di tutti e penso anche che chi uscirà dalla Prada Cup alla fine sarà molto molto competitivo nei confronti del Defender. Oggi purtroppo è stata annullata la regata della Christmas Cup, è un peccato perché c'erano condizioni ottimali, soprattutto per noi visto che eravamo settati per un vento medio-leggero. Quando siamo usciti abbiamo navigato un'oretta cercando di mettere appunto la barca in preparazione per la regata. C'erano 9-10 nodi, poi durante la prima regata tra Team New Zealand e Nineus purtroppo il vento è andato a calare, le barche tant'è che non sono riuscite a finire la regata dentro il tempo limite. È peccato, è un'opportunità, ogni volta che abbiamo l'opportunità di regatare contro un altro team è sempre quello che diciamo noi, è gold, è come oro perché si impara tantissimo, però alla fine il gioco è uguale per tutti, quindi adesso barca a terra, iniziamo già da stasera a fare delle piccole modifiche, vedremo già il 23 quando torneremo in acqua e quindi non vediamo l'ora di tornare in acqua e spingere al massimo.